E tu Eva? Dai non ti rendo Non ti rendi sconso, contenta E sul verbo parlare? Ti ha imparato? Su passato, come ti va? Io parlai, tu parlaste Egli parlò, noi parlamo Voi parlaste E si parlarono Non c'è da sposto però Non vengono facili facili Dai ci puoi stessi ammettare ad imparare Io mi portavo, tu sei sempre spiritoso Pablo ed Eva fanno parte di quel piccolissimo gruppo di bambini Che negli ultimi anni ha imparato il sardo in casa come prima lingua Una decisione di famiglia non ideologica Ma legata alla voglia di trasmettere un patrimonio culturale da genitori a figlio E' normale che uno parli con i figli la propria lingua E' anormale non farlo Noi non abbiamo insegnato niente Io da quando è nato iniziavo a parlare con lui il sardo e basta Naturalmente prima Pablo e poi Eva Hanno risposto e parlato come la stessa lingua Quindi non è un insegnamento in senso tecnico Io non gli ho mai detto Guarda che in sardo tavola si dice Mesa Bisognerebbe cominciare a togliersi l'idea Che una lingua sia soltanto utilità Anzi forse molto più altre cose E' ovvio che la lingua Qualunque lingua ha una sua utilità Cioè quella di intercomunicare Di comunicare Notizie, informazioni Tutto ciò che si ha necessità di comunicare Ma la lingua è anche espressione L'espressione non è necessariamente Anzi non è utilità L'esprimere è un mondo Un'interiorità Una cultura che sta alle spalle E allora Questo è utile E' utile sotto un'altra sfera Non immediatamente pragmatica Pablo e Eva hanno imparato l'italiano fuori da casa E lo parlano molto correttamente Questa è altra idea sbagliata Che chi parla il sardo non impara bene l'italiano E' un'altra delle mistificazioni storiche più grosse Che noi abbiamo L'aspetto contrastivo della lingua Aiuta a impararla meglio E non viceversa Oggi la lingua sarda viene parlata pochissimo in casa A usarla rimangono soprattutto le persone più anziane Nei piccoli centri Non c'è più la trasmissione intergenerazionale Da madre a figlio O da genitori a figlio Per cui con i figli per lo più Salvo poche eccezioni Si parla in italiano Solo raramente in sardo Se il sardo i ragazzi lo apprendono Lo apprendono più nel circuito delle amicizie Nel gruppo dei pari Anche come segno di una Più o meno benintesa identità La sopravvivenza della lingua sarda Dipende quindi da quanti bambini La impareranno in famiglia nei prossimi anni Dei tabene il RAI Il RAI è sti Radioaudizioni italiane Ecco, questo Sacronimo è questo Non dussi Certo che dussiamo E poi ci risiedi Dussi anche questo